Sarà quindi candidato a consigliere comunale di Salerno nella lista del Popolo della Libertà. Luciano Conforti, assessore comunale al lavoro, fino a pochi giorni fa ha deciso di entrare a far parte della squadra che sostiene la candidatura a sindaco di Anna Ferrazzano. Stamani alla presenza dei vertici provinciali del partito, del senatore Paravia, del presidente della provincia Cirielli e del candidato a sindaco Ferrazzano la presentazione ufficiale nella sede del partito in via Porta e Linea. Conforti ai nostri microfoni spiega così la scelta effettuata dopo diversi giorni di riflessione. Le motivazioni che mi hanno condotto a questa scelta sono state molto sofferte, nel senso che non c'è stato un coinvolgimento della mia persona a fine legislatura dove chiaramente era stato fatto un programma politico programmatico per la città. Ovviamente la cosa mi amareggia molto perché ricevere una telefonata da una segretaria per andare a firmare una banale lista senza aver conosciuto il programma non mi è sembrato ovviamente un trattamento di favore, anzi tutt'altro. Ho svolto la mia attività di assessore al lavoro, un assessorato difficile e complesso, in maniera oscura e quindi difendendo i problemi del lavoro dei lavoratori e delle crisi aziendali del nostro territorio. È chiaro che a fine mandato credevo di avere da parte di chi governa questa amministrazione del primo cittadino un'attenzione un po' più articolare. Questa probabilmente è sfuggita e quindi c'è stata questa opportunità da parte del PDL di volermi offrire questa candidatura. Ho scelto questo partito perché credo che ci sia quell'area moderata che mi ha sempre contraddistingue e dalla quale provengo.